Caricare i certificati di anagrafica dal computer di casa si può fare, è completamente gratis. Basta accedere a internet e collegarsi al sito www.anagrafenazionale.interno.it o www.anagrafenazionale.gov.it per ottenere ad esempio certificati come quelli di nascita, stato civile e residenza. Niente più fila agli uffici o prenotazioni da effettuare in anticipo. Si entra con lo speed, l'identità digitale o con la carta di identità elettronica ma anche con la carta nazionale dei servizi e dopo aver seguito la procedura in pochi minuti si può ricevere il certificato richiesto in formato pdf o via mail per sé o per un familiare. Un servizio che si rivolge non solo ai singoli cittadini ma anche alle amministrazioni che grazie a un database comune possono accedere ai dati del 98% della popolazione italiana cioè 67 milioni di cittadini e quasi 8 mila comuni. L'accesso è consentito a diversi enti, dall'Agenzia delle Entrate all'Inps alla Motorizzazione Civile che vi trovano informazioni certe per erogare servizi integrati, dunque in prospettiva più efficiente. L'operazione è gestita in maniera incrociata dal Ministero dell'Interno e quello dell'Innovazione Tecnologica e della Transizione Digitale. L'aspetto operativo è affidato a Sogei, la società informatica controllata dal Ministero dell'Economia. A coordinare l'iniziativa il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ad oggi sono 14 certificati che si possono scaricare online, ma l'obiettivo è allungare l'elenco, aumentando i servizi per i cittadini in modo da evitare file e sprechi di tempo e al tempo stesso digitalizzare tutti i comuni italiani, aderendo all'anagrafe nazionale della popolazione residente.